ciao a tutti sono manuele montesanti e vi do il benvenuto il mio corso armonia funzionale volume 1 assertivo io conosco un solo linguaggio che quello musicale che universale ma quello italico zero voicing comping e groove la geometria armonica come si costruiscono in maniera geometrica gli accordi partiremo dalle triadi accordi più complessi li sostituiremo sempre avendo a disposizione uno spazio soprattutto dove perdersi diventa sempre più difficile una volta acquisita questo walking simmetrico una volta acquisito il nostro alfabeto geometrico armonico saremo in grado di scrivere un sacco di gavolate non scherzo lo applicheremo alle diverse tipologie di comping famola americani il comping è l'acronimo di accompaniment sarebbe l'accompagnamento nostro cercheremo di capire meglio qual è il nostro ruolo cosa fare in piano solo come comportarsi il divertimento sta nell'improvvisare far uscire voi stessi cercando di non copiare nessuno non scale ma utilizzare proprio questo grande mondo armonico per poter cercare le note più fighe all'interno di un solo avrete un'identità e non sarete la brutta copia di nessuno come diceva non so chi forse io ragazzi stavo dimenticando una cosa stavo smontando tutto però per fortuna mi sono ricordato il groove cioè che poi è la cosa sulla quale ho basato praticamente la mia intera vita l'ho studiato analizzato grazie proprio a questo aspetto percussivo quello che hanno tutti quanti gli strumenti in generale per poterlo utilizzare ci deve essere un connubio tra controllo dinamico e mantra e la cosa interessante è vedere come poter fare queste cose da folli sullo strumento allora a certo punto arrivi dici senti la soluzione a tutto cosa vuoi che ti risponda armonia funzionale volume 1 di ma l'ho guarda le montezate ah 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 ah